Eccoci qua, ciao a tutti, sono sempre io il mago Dedan e oggi voglio presentarvi dei miei amici. Abbiamo il circo, una scatolina con ente animali del circo. Beh, gli animali del circo li conoscete tutti, no? Sì, c'è il carro e dentro ci sono questi animali. Iniziamo col primo, il grande Egidio, l'elefante, che lui è sempre dormiglione e quando si va a fare i spettacoli rieschi sempre che si adrommenti per strada. Poi abbiamo Leo, il leone, grande fisarmonicista, però ogni tanto si dimentica le cose ed è un po' sbadata, come vedete anche qua nell'immagine, ma lasciamo stare, però è molto bravo che mi segna anche a me a suonare la fisarmonica. Poi abbiamo la grande Raffa, la giraffa, grandissima giocoliera e mentre fa la giocoliera riesce a studiare, a mangiare, cioè fa... non so, è una cosa incredibile. Poi col suo collo riesce a fare grandi magie. Ed infine abbiamo... la lavatrice. Ma come la lavatrice? Ma mica è un anima? Ah no! Chi la vedeva? È la formica. Chi si ricordava della formica? È Rita la formica, perché sapete che le formiche sono fortissime e le riesce a sollevare, cosa? La lavatrice. Quindi ricapitolando, abbiamo la formica, il leone e la giraffa. Ma dov'è Gidio? No, non ci credo. Non ci credo. Ma dai! Ma... Ma cosa... Incredibile! It's a magic!